E' adesso va a po'. E' un altro secondo sempre. E' un giorno passato, ce l'hai, dice, per dene e... devo portare i zip, perchè me ne sono fatti ora per... e mi sono tanti e me ne sono fatti. E' un lato, c'è l'acqua, dove hai le siringhe? E' un'altra cosa. Io era al lavoro, e sono felice. E' un'altra cosa, c'è la lingua del corpore, e mi sono... mi devo portare perchè non la vedevo. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. ...la posizione dell'avviatore. ...la posizione dell'avviatore... ...maia del Dapur, Svritte, Basti Davide, Consiglioso e Stolismacco. ...degu' il corpi di Gioquandri. ...donde che la staccata ha di usare di confreddere. ...donde che la stessa. ...donde che la stessa. L'avviatore, il corpi di Gioquandri, Grazie 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 Grazie